Ciao a tutti e benvenuti a questa nuova puntata. Oggi facciamo la recensione di questo particolare Jager Lecultre Reverso che vedete appunto qua. Prima di tutto volevo dirvi che da qualche giorno ho una pagina facebook ed anche un profilo su instagram. Ecco trovate poi sotto in descrizione i link per andarli a vedere. Mi raccomando iscrivetevi perché praticamente sono sono solo in questo momento qui è partito praticamente praticamente ora. Ho deciso di aprire una pagina su facebook e una su instagram innanzitutto per far conoscere anche questo questo canale. Il canale youtube rimarrà sempre quello principale quindi potete sempre seguirmi qui. Per quanto riguarda facebook e instagram è un pochino più facile aggiornarli cioè non hanno bisogno di tante di creare video è molto più istantaneo perché praticamente se uno fa una foto la può postare velocemente e quindi ho pensato che poteva essere un buon sistema per rimanere più in contatto più velocemente diciamo che non vedersi una volta la settimana come su youtube. Ma ora senza perdere altro tempo andiamo cambiamo prospettiva e andiamo a vedere l'orologio più da vicino. Questo particolare reverso è del 2009 la referenza è 252886. Allora cominciamo subito con il movimento. Il movimento è di manifattura ovvero lo fa la Jägerle Kultre è il movimento 846. È un movimento meccanico a carica manuale introdotto la prima volta è stato introdotto nel 1975. È composto da 93 pezzi e viaggia a 21.600 vibrazioni all'ora. La riserva di carica è di 40 ore. Una particolarità che ha il reverso è il fatto di avere non solo un movimento di manifattura che è prodotto appunto dalla Jägerle Kultre ma ad avere un movimento costruito apposta per questo modello. Infatti se notate il movimento ha una forma non tonda ma una forma appunto quadrata proprio per perché è costruito proprio per questo per questa cassa che appunto è una cassa quadrata. Questa cosa può sembrare una banalità ma in realtà non lo è. Per quanto riguarda la cassa andiamo appunto a misurare con il nostro calibro in plastica. Allora qui abbiamo una larghezza di 23.1 e una lunghezza di 38.7. Abbiamo invece uno spessore di 7.5. La particolarità del reverso è quella di come dice il nome di avere una una cassa che gira all'interno di una culla e girando appunto e chiudendosi in questo modo l'orologio diventa molto robusto. Ecco considerate che questa cassa è una cassa molto complicata. È una cassa che è composta di 50 pezzi ed è appunto una delle casse più complicate che c'è in questo momento sul mercato. Come potete vedere la culla ha una delle rifiniture perlage. Ecco come potete vedere molto ben rifinito e lo stile di questo di questo orologio è il famosissimo art deco. Due parole a proposito dell'art deco ecco che se volete avere ecco un'idea così istantanea dovete pensare all'ultimo film che hanno prodotto a proposito del grande Gatsby. Il libro è che appunto è ispirato al libro di Scott Fitzgerald e appunto nell'ultimo rifacimento di questo libro l'attore principale è Leonardo DiCaprio. Io ho visto anche il film con Robert Redford che è uno dei miei attori preferiti ma devo dire che DiCaprio secondo me ha fatto una performance incredibile in quel particolare film. Ecco l'art deco è lo stile dei figli della prima guerra mondiale no? È lo stile di una borghesia che vuole lasciarsi alle spalle gli orrori del recente passato. Sono gli anni in cui si afferma wall street e che appunto c'è la prima borghesia ricca. I ricchi si annoiano e organizzano appunto feste per celebrare il loro il loro successo. Quindi possiamo dire che lo stile art deco è uno stile molto ricco, è uno stile molto ampolloso. Questo stile durerà fino agli anni 30 perché appunto con l'avvento della seconda guerra mondiale si parserà ad uno stile molto più essenziale, ad uno stile molto più minimalista. Una cosa molto carina del Reverso è quella di avere uno spazio abbastanza largo perché non è decorato sulla sul sul dietro della della cassa. Ecco qui spesso vengono fatte delle incisioni, delle dediche appunto se si tratta di un di un regalo. L'impermeabilità di questo particolare Reverso è 3 barre quindi 30 metri quindi praticamente va bene insomma ecco per lavarsi le mani non di più. Però ecco gli ultimi Jagerlecultre sono passati a 50 metri di impermeabilità che li dà insomma una sicurezza maggiore. Ecco si può dire che si possono mettere anche sotto l'acqua. Il cinturino è in pelle ed è quello originale marchiato Jagerlecultre è in pelle di struzzo e invece l'ha anche la la fibbia è di tipo deploiante ed anche quella è serigrafata con il marchio Jagerlecultre è fatta molto bene è solida vedete quanti c'è anche il logo appunto della della Jagerlecultre si trova qui è molto elegante una fibbia che funziona che funziona molto bene. La corona è serigrafata con il logo della Jagerlecultre. Il dietro della della culla è marchiato Jagerlecultre Reverso appunto qua abbiamo il numero dell'orologio ed è molto semplice però è anche allo stesso tempo molto elegante. La cassa è lucidata in tutte le sue parti all'infuori della parte posteriore della culla che è satinata. A questo punto torniamo in studio per le conclusioni finali. Ecco per certi versi il Reverso quando parliamo di Jagerlecultre Reverso è proprio il modello più emblematico di questa di questa azienda e in un certo qual modo arriva ancora prima della Jagerlecultre. Infatti in origine Jagerlecultre erano due aziende indipendenti che collaboravano già dal 1906 e diventarono un'unica compagnia soltanto nel 1927 e comunque non si vide mai il nome Jagerlecultre fino al 1937. Ora questo particolare Reverso il primo modello è del 1931 quindi il primo modello uno dei primi appunto che modelli della Reverso venne fuori con su scritto sul quadrante soltanto Reverso non c'era scritto né Jagerlecultre quindi in qualche modo questo modello anticipa proprio quello che sarà la Jagerlecultre che verrà. A questo punto non mi rimane che salutarvi io spero che vi sia piaciuto questo video se vi è piaciuto mettete un like come sempre e se lo ritenete opportuno iscrivetevi al canale. Non vi scordate anche di cliccare sulla campanellina così siete sicuri che tutti i contenuti che pubblico vi arriverà la notifica. Io vi saluto e buona domenica a tutti. Ciao!